Prosegue la campagna di vaccinazione anti-covid in Sardegna. A ieri nell'isola sono state somministrate oltre 215.000 dosi su 274.000 consegnate, pari al 78,5%, con una forte accelerazione nell'ultima settimana. La prima dose di vaccino è stata somministrata al 50% degli ultraottantenni e sono in corso le vaccinazioni dei pazienti fragili, contattati direttamente dalle strutture che li hanno in cura, oltre un migliaio i vaccinati negli ultimi due giorni. Nell'isola è attesa la consegna di 77.080 dosi entro il 31 marzo, di cui 28.080 del siero Pfizer, 13.100 Moderna e 35.900 AstraZeneca. Nell'isola sono ancora bloccate 13.000 dosi del siero AstraZeneca posto sotto sequestro, che continuano però, sottolinea il presidente Solinas, a essere computate fra le dosi a nostra disposizione. A oggi, se la quota di questi vaccini fosse scorporata dal totale, il dato della Sardegna supererebbe l'80% delle dosi inoculate su quelle ricevute. La macchina è efficiente, prosegue il presidente Solinas. La Sardegna è anche una tra le poche regioni ad aver immunizzato tutto il personale sanitario. La regione, intanto, amplia la platea dei soggetti vaccinabili nella fase in corso. Dal 31 marzo, inoltre, sarà il turno dei cittadini nati dal 1942 al 1944, dai 77 ai 79 anni d'età, che non soffrono di gravi patologie, che potranno quindi manifestare il proprio consenso sulla piattaforma.